la Roma diventa improvvisamente quasi ogni anno, non proprio tutti gli anni ma quasi ogni anno, a un certo punto diventa la peggiore squadra del campionato, cioè a me è questo che fa impazzire, non è che la Roma ha un calo, perché tu puoi avere un calo il Milan ha gli stessi punti della Roma con una partita in meno però ci sono delle cose positive, delle cose negative i guain il gioco, però poi viene rimontata, insomma, la Roma è la peggiore squadra del campionato, giusto? perché una che non vince col Chievo e perde col Bologna che non ha mai segnato e adesso la Roma vi prego a tutti voi, tutti i romanisti non dite, eh vabbè ma te pare che col Frosinone non vinci non lo dite, perché la Roma oggi non vince col Frosinone la Roma fa schifo la Roma di oggi fa schifo, quella che abbiamo visto ieri, quindi mettetevi in testa oggi la Roma per un'altra volta è diventata la peggiore squadra del campionato secondo me la Roma col Frosinone vince ma quello che mi deprime è che il Frosinone verrà qua e dirà avrà una speranza ragazzi proviamoci però scusami Ale secondo te vince secondo te arriva quarta sì perché tanto continuiamo così continuiamo a dirgli così ma perché arriva quarta? no ma guarda che è peggio quello che dico io è peggio io lo dico per ammazzarli io lo dico per ammazzarli perché faranno il minimo sindacale faranno il minimo sindacale perché questa squadra per quanto possa essere smembrata io posso capire che hanno lavorato tanto male sul mercato e io non sono ancora convinto di questo che con la Juve e con il Napoli non c'è poi compete guardate che avete combinato no che hai un rendimento da serie B perché un punto in due partite con Chievo e Bologna è da serie B è la peggiore squadra del campionato la peggiore situazione del campionato come società peggio di tutti in questo momento oggi si sbizzarriscono ovviamente un po' tutti cioè la Roma finisce per essere la copertina dello sport di Repubblica per dire con un pezzo di Maurizio Cresetti severissimo è ovviamente il trionfo della teoria che è falsa tra l'altro ma non mi riferisco al pezzo di Cresetti della Roma smembrata ogni anno che non è così vabbè è il trionfo di tutto ciò e beh ma te credo fai dire a Ranieri hai distrutto la spina dorsale tutte queste cose il trionfo vedi Ranieri ti posso dire una cosa nella sua disamina di oggi sai perché è un pochino poco famo così non sappiamo accogli poco sereno perché lui è uno che andò via e sa bene perché è andato via le motivazioni lui le ha date perché andò via io mi ricordo quando il secondo anno disse se la Roma se i giocatori giocano così arriviamo sesti richiamando in causa l'atteggiamento dei giocatori te lo ricordi? come no ve lo ricordate questo? è una delle tante infinite crisi di questa squadra che si ammala del suo male cioè del suo essere Roma perché il problema è essere la Roma non ce ne sono più altre motivazioni no? cioè sono cambiate troppe cose sono passati troppi anni e se si rifinisce sempre a quel punto vuol dire che è la Roma giusto la malattia si chiama Roma non ci sono altre altre cause perché ripeto si possono avere dei problemi si può stentare non si può sempre a un certo punto diventare la peggiore squadra del campionato perché la Roma questo è l'anno scorso dicembre gennaio la Roma era la peggiore squadra del campionato in quel momento anche come punti che faceva non vinceva più una partita con Garzia il secondo anno che ne pareggiò Jacopo 11 di seguito? Garzia? il secondo anno non vinse per 11 partite se possibile allora lo ricerchiamo sì ma qualcosa del genere comunque no ma io ti dico un'altra cosa Ale perdonami no? Luiz Enrique Andrea Azzoli Spalletti e Garzia giusto? quattro scemi quattro scemi esonerati mandati via in un modo no Luiz Enrique se ne è andato da solo e nessuno si domanda perché però uno allena la Spagna uno allena l'Empoli certo per carità non allena il Real Madrid un altro allena il Marsiglia e un altro allena l'Inter come è possibile che Spagna Marsiglia lo scudetto con l'Eister ah io questo manco ce l'avevo messo tra le altre cose come è possibile che vanno dalle altre parti e riescono a fare il loro lavoro e qui dopo un anno un anno e qualche cosa diventi in automatico e aspetta io confesso che avevo delle perplessità su Di Francesco che in qualche maniera poi qualche risultato mi ha obbligato giustamente a essere onesta di se Roma arriva in serie finale è merito pure di Di Francesco nella partita con Barcellona c'è merito pure di Di Francesco è innegabile io ho detto stamattina che sono pochi quelli che possono arrogarsi il diritto di di io l'avevo detto di Di Francesco perché io la stampa per Di Francesco io me la ricordo la stampa per Di Francesco io me la ricordo mo' è diventato un mezzo scemo pure lui allora io dico come è possibile che tutti gli altri allenatori riescono a fare il loro lavoro e non sono un grandissimo estimatore tant'è vero che tre settimane fa che era un pochino meno o addirittura forse dopo Torino-Roma io ho detto sta cosa che il prossimo passo che la Roma avrebbe dovuto fare e so per certo che l'allenatore non l'ha presa neanche benissimo perché ritenendoci comunque una trasmissione evidentemente ascoltata le cose gliele riportano si esce fuori Angelini due punti a Roma deve cambiare allenatore che cosa che non avevo detto peraltro gli avevo detto la Roma ne ha provate talmente tante che l'unica cosa che le manca per poter dire ai tifosi abbiamo provate tutte è alzare l'asticella sull'allenatore adattato a Roma per andare Grazie a tutti.